Il numero di magia qui a Moviland è composto da tre parti, o atti. La prima parte è chiamata la promessa. L'illusionista dimostra qualcosa di ordinario. Il secondo atto è chiamato la svolta. L'illusionista prende quel qualcosa di ordinario e lo trasforma in qualcosa di straordinario. Ancora non applaudite perché far sparire qualcosa non è sufficiente. Bisogna anche farla riapparire. Ecco perché ogni numero di magia ha un terzo atto, la parte più ardua. Quella che qui a Moviland chiamiamo il prestigio. L'illusionista dimostrazione è un'attività. L'illusionista dimostrazione è un'attività. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.